Le avventure del signor Testa Vuota Ed ecco una fiaba popolare di origine inglese. Il signor Testa Vuota va ad abitare su un albero e si ritrova con un mucchio di danaro. Come finirà la giornata del signor Testa Vuota? Ascoltate e scopritelo! Il signor Testa Vuota abitava insieme alla moglie in una grande bottiglia di aceto. Un giorno la moglie, che era una brava casalinga, stava facendo le pulizie nella loro bottiglia, ma dopo un colpo sfortunato del manico della scopa, la casa cominciò a fare un gran rumore e a poco poco andò in pezzi e si distrusse completamente. Rimase in piedi soltanto la piccola porta di legno. Quando il signor Testa Vuota tornò a casa, vide che la casa non c'era più, c'era soltanto la porta. La moglie era disperata. Oh, marito mio, marito mio, siamo rovinati! Ho distrutto la casa e andate in pezzi! Il signor Testa Vuota, che non si preoccupava mai di niente, diede un'occhiata in giro e rispose molto tranquillo. Beh, mia cara, però è rimasta la porta. Io la prenderò sulle spalle e andremo a cercare fortuna. Così camminarono tutto il giorno e al calar della notte si trovarono in un fitto bosco. Erano molto, molto stanchi e il signor Testa Vuota allora disse alla moglie Mia cara, io salirò su un albero, mi porterò dietro la porta, poi la accomoderò fra due rami ed ecco che avremo un bel letto per la notte. Così fece e allora si sdraiarono tutti e due sulla porta sui rami degli alberi e subito si addormentarono. Nel cuore della notte, però, il signor Testa Vuota fu disturbato dal suono di voci sotto di loro. Diete uno sguardo e con grande spavento scoprì che era una banda di ladri che si era riunita per dividere il bottino. Uno diceva, Ecco Jack, qui ci sono cinque sterline per te. Ecco Bill, dieci sterline per te. E infine tre sterline per Bob. Il signor Testa Vuota era spaventatissimo. Tanto era grande il suo terrore che tremava e tremava finché fece cadere la porta sulla testa dei ladri. A quel punto i ladri scapparono via di corsa ma il signor Testa Vuota e la moglie non osarono scendere dal loro rifugio lì aggrappati ai rami fino a che non fu pieno giorno. Quando fu sicuro che non ci fosse nessun pericolo il signor Testa Vuota scese. Il suo primo pensiero fu di vedere se la sua porta fosse ancora tutta intera. La sollevò e cosa vide sotto se non un mucchio di monete d'oro? Moglie mia, moglie mia, scendi, abbiamo fatto fortuna, abbiamo fatto fortuna, scendi ti dico. Allora anche la moglie scese il più velocemente possibile e quando vide il denaro saltò di gioia. Oh mio caro, finalmente siamo ricchi. Adesso ascolta, qui vicino nella città c'è una fiera. Prendi questi soldi e compra una mucca. Con la mucca io farò burro e formaggio che tu poi venderai al mercato e allora potremo vivere molto comodamente. Il signor Testa Vuota accettò la proposta con gioia, prese il denaro e si diresse verso la fiera. Quando arrivò camminò su e giù e alla fine vide una bellissima mucca rossa. Si vedeva subito che era una grande produttrice di latte, perfetta sotto ogni aspetto. Il signor Testa Vuota pensò Oh, se avessi quella mucca sarei l'uomo più felice del mondo. Allora andò dal venditore. Ma siccome il signor Testa Vuota non conosceva davvero il valore della mucca e siccome non era capace a contrattare, alla fine il venditore gli portò via tutti i soldi. In ogni modo l'affare fu fatto e il signor Testa Vuota si avviò portandosi dietro la mucca. Poco dopo, a un angolo della strada, vide un uomo che suonava la corna musa. Vide anche che i bambini lo seguivano dappertutto e che la gente gli buttava dei soldi da ogni parte. Allora il signor Testa Vuota pensò Oh, se solo avessi quel bellissimo strumento sarei l'uomo più felice del mondo e diventerei anche ricco in poco tempo. Così si avvicinò al suonatore di corna musa. Caro amico, che bellissimo strumento. E quanti soldi devi guadagnare? Beh, certo lo strumento è molto bello, però io non è che guadagno così tanti soldi. Oh, non mi dici la verità. Ah, quanto mi piacerebbe possederlo. Me lo venderesti? Il suonatore di corna musa a questo punto capì che poteva fare un buon affare e allora disse Beh, vedi, mi dispiace molto separarmene, però, visto che tu sei un così grande amante della musica, potresti averlo in cambio della tua mucca. Oh, che gentile! Affare fatto! Disse il signor Testa Vuota, felicissimo, e convinto d'aver fatto il più grande affare del mondo. E così quella bellissima mucca rossa fu data in cambio della corna musa. Lui subito provò a suonarla, ma non aveva mai suonato una corna musa in vita sua. Riusciva a far venire fuori soltanto dei suoni tremendi e sgraziati. I cani ululavano al suo passaggio e la gente, invece di buttargli delle monete, si mettevano a ridere e gli tiravano dei pomodori. Ora, siccome era inverno e faceva freddo, il signor Testa Vuota pensò che non riusciva a suonare la corna musa perché aveva le mani troppo fredde. E proprio in quel momento incontrò un venditore di guanti e sciarpe. Il signor Testa Vuota pensò Oh, le mie dita sono così fredde! Se solo avessi quei bellissimi guanti, sarei l'uomo più felice del mondo e potrei suonare benissimo questa corna musa. Allora si avvicinò al venditore di guanti. Caro amico, sembra che tu abbia dei bellissimi guanti. Beh, certo signore. Tutti i miei guanti sono di ottima qualità e tengono le mani calde quanto più è possibile in questo freddo giorno di novembre. Ma il signor Testa Vuota non aveva più un soldo e alla fine il venditore disse Beh, potresti darmi la corna musa in cambio di questo paio di guanti. Il venditore sapeva benissimo che la corna musa valeva molto di più del suo paio di guanti, ma aveva anche capito che il signor Testa Vuota non era molto intelligente. Affare fatto! Grido subito il signor Testa Vuota. Diede la corna musa e indossò il paio di guanti, che in realtà aveva comprato proprio per suonare la corna musa, che però adesso non aveva più, e si avviò per andare a incontrare la moglie. Però a furia di camminare era davvero molto molto stanco e quando vide un uomo venire verso di lui con un bel bastone robusto in mano che lo sosteneva mentre faceva i suoi passi, subito pensò Oh, se solo avessi quel bastone sarei l'uomo più felice del mondo. E disse all'uomo Amico, che bel bastone che hai! Me lo venderesti? L'uomo lo guardò molto stupito dalla richiesta. Beh, non so, certo questo è un buon bastone, l'ho usato per molti lunghi viaggi, però... Ma il signor Testa Vuota non smetteva di insistere e alla fine si scambiarono i guanti con il bastone. Finalmente arrivò dove la moglie lo aspettava, seduta sulla porta. Oh, marito mio, sei arrivato! Ma allora dov'è la mucca? Ah, cara moglie, ho questo bastone, qualcosa di molto più prezioso della mucca. La moglie guardò il bastone, che era un comunissimo pezzo di legno intagliato. Ma come, marito mio? Un bastone? Sì, io prima ho speso tutti i soldi per comprare la mucca, ma poi l'ho scambiata per una cornomusa, perché di sicuro suonandola sarei diventato ricco. Ma poi mi sono accorto che avevo le mani troppo fredde per suonare la cornomusa, e allora l'ho scambiata per dei guanti. Sono stato molto furbo. Allora avevo le mani molto calde, però nel frattempo le mie gambe si erano stancate. E visto che ormai avevo le mani così calde, ho scambiato i guanti con questo bellissimo bastone. Per cui il risultato è che io ho speso tutte le monete d'oro per avere questo bellissimo bastone. Non è meraviglioso, moglie mia? La moglie a quel punto andò su tutte le furie, gli prese il bastone e cominciò a rincorrere nel bosco. Sei l'uomo più stupido che io abbia mai incontrato. Vieni qui che ti do quello che ti meriti. E sembra che stiano ancora correndo adesso. Vi è piaciuta questa storia? Fiabe classiche e moderne, favole e storie per bambini sempre nuove. A presto!